6.853 detenuti nelle carceri della Campania, di questi 1.356 sono tossicodipendenti. È il dato che salta all'occhio sfogliando le tabelle presentate dal garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, nel corso della semestrale relazione sui della situazione all'interno delle mura detentive presenti in una regione, come la Campania, seconda solo alla Lombardia per sovraffollamento. Un problema che può essere risolto solo con un percorso di depenalizzazione di reati minori, che Ciambriello auspica, possa essere avviato dal guardasigilli del nuovo governo. Il 30% dei detenuti in Italia sono immigrati, noi abbiamo solo il 10%, il 25% sono tossicodipendenti, ma l'ha detto anche il neoministro Nordio, depenalizzare i reati minori, decarcerizzare. E poi voglio dare un altro dato, noi abbiamo il 60% dei nostri detenuti campani, stanno al di sotto dei tre anni da scontare. Occorre mettere in campo misure alternative al carcere. Questi sono gli svuota carcere sul serio. Certo, se poi si arriva ad un amministratore ad un indulto, questo serve per ripartire bene ed andare oltre il carcere come discarica sociale, come risposta semplice a bisogni compressi. Sullo sfondo gli endemici problemi, come i buchi inorganico della Polizia Penitenziaria, denuncia Ciro Aricchio, segretario regionale UGL Sicurezza. Sovaffolamento e carenza di organico sono i mali da curare. La medicina c'è nuova istituzione e costruire un nuovo carcere per decongestionare il sovaffolamento di Poggio Reale Secondigliano. Fari puntati durante la presentazione, a cui ha preso parte anche il Presidente del Consiglio regionale della campagna, Gennaro Oliviero, anche sull'aumento dei reati minorili. Stamattina riflettiamo su queste cose e daremo il nostro contributo verso queste soluzioni, questi problemi.